Questi deliziosi cuccioletti si chiamano Babar il maschietto e Hop la femminuccia. Sono stati abbandonati appena nati, pensate, in campagna, senza farsi scrupoli, coloro che li hanno abbandonati. Per fortuna sono arrivati qui e finora sono stati cresciuti in casa allattati al biberon, quindi tenuti al caldo, protetti, coccolati. Questo cosa significa? Che oltre a essere sani e stupendi hanno anche uno splendido carattere perché hanno imparato sin da subito a stare con le persone e inoltre sono socializzati con altri cani e con gatti, ci giocano con i gattini. Questi piccini oggi hanno due mesi di vita, sono proprio piccolini. La dottoressa li ha vaccinati perché li ha trovati in perfetta salute e quindi ora sono pronti per andare in famiglia perché meritano una bellissima famiglia questi piccoli, la migliore delle famiglie. Ci fate un pensierino su di loro? Sì, sono troppo belli, come si fa a resistere a questi cuccioli? Babar e Hop diventano di taglia media circa 20 chili. Adottateli allora. Ciao Babar, ciao Hop, ciao!